Debutta come attore cinematografico nel 1995 prendendo parte al film Uomini Uomini Uomini, diretto da Christian De Sica. In seguito lavora come attore per fiction, in particolare recitando nel ruolo del brigadiere Bantini il maresciallo Rocca, ruolo che svolge per tutte le sei stagioni della serie. Nel 1998 recita a fianco di Raffaella Carrà nella miniserie Mamma per caso. Nel 2002 interpreta l'arcivescovo Loris Francesco Capovilla nel film Papa Giovanni Ioan XXIII. Dal 2004 recita nel ruolo di Diego Velandri in La stagione dei delitti. In seguito lavora ancora al cinema nelle pellicole Billo e il Ground Dakar. 2007, e Piede di Dio. 2009, svolge anche l'attività di attore teatrale. Appassionato di calcio, è tifoso della S.S. Lazio.